sparso. Infatti se posso concludere il centro-destra non si è presentato con un unico interlocutore di conseguenza abbiamo ritenuto utile parlare con tutte le componenti del centro-destra. Quello che per noi è importante ribadire come per la prima volta per un'elezione così importante della seconda e terza carica dello Stato si segue un percorso trasparente alla luce del sole perché le figure che devono essere elette devono essere figure che facciano partire bene i lavori del Parlamento ed è fondamentale come ha detto la collega Giulia Grillo che vengano svincolate dalla formazione di qualsiasi maggioranza. È il vero modo di garantire l'indipendenza, l'efficacia e l'efficienza del lavoro. Abbiamo anche parlato con tutte le altre forze politiche anche più piccole per la questione del completezza degli uffici di presidenza della Camera e del Senato perché come tutti sapete ci sono vicepresidenti, ci sono tesorieri e ci sono segretari che svolgono funzioni molto importanti e lo abbiamo fatto perché vogliamo rispettare, rispettiamo la democrazia, rispettiamo l'esito del voto rispettiamo le prassi costituzionali e vogliamo che quegli uffici di presidenza luoghi importanti dove si prendono decisioni importanti prendano le decisioni più attese anche e soprattutto dei cittadini italiani che ci hanno dato un voto netto di cambiamento a partire dall'abolizione di vitalizi che si potrà fare proprio all'interno degli uffici di presidenza delle Camere e del Senato. Grazie. Grazie. Grazie.